Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è venerdì 16 settembre 2022, questa è la rassegna stampa di Fano TV, noi come sempre apriremo i giornali questa mattina con il Corriere Adriatico e il resto del Carlino sulle pagine locali dove ci sono diverse notizie, alcune delle quali drammatiche come per esempio l'alluvione che si è verificata questa notte e ieri sera nelle Marche dove ci sono stati addirittura dei morti. Iniziamo comunque la nostra trasmissione con l'Almanacco e vediamo il santo del giorno, i santi oggi sono due, sono i santi Cipriano e Cornelio, Cipriano era di Cartagine, Cornelio era di Roma, entrambi vissero nel III secolo, da vescovi furono martirizzati, Cornelio nel 253 dopo essere stato esiliato a Civitavecchia, Cipriano nel 258 mandato a morte dall'imperatore Valeriano, sono due nomi questi che ormai sono dimenticati ma la loro memoria per quanto riguarda i santi è ancora viva nelle celebrazioni della Chiesa Cattolica. Vediamo anche le previsioni del tempo, il sole questa mattina è sorto alle 6.47 e tramonterà alle 19.19, le giornate lentamente si stanno accorciando. Per quanto riguarda il tempo vediamo che nelle Marche sta tornando il sereno, questa mattina il cielo su Fano era sgombro di nubi ma in lontananza si vedevano ancora quello strato, si vedeva ancora quello strato tenebroso che ha offuscato la notte e la giornata di ieri. Temporali comunque nelle ore notturne, nelle aree meridionali della regione, tempo in prevalenza ha solleggiato durante il giorno, il clima permane estivo, le temperature oscilleranno dalle minime di 22 gradi alle massime di 29, le minime sono ancora prettamente estive. I venti spireranno sulle coste da una direzione di ovest e sud-ovest così come nell'entroterra, le temperature dovrebbero essere in calo ma insomma questa è una previsione che trova sistematicamente delle smentite poi nei consuntivi della giornata. E allora vediamo subito le notizie che riguardano la bomba d'acqua che è caduta sulle Marche. I giornali fanno in tempo a riportare quanto avvenuto a Cantiano. Bomba d'acqua, si temono dei dispersi, Cantiano addirittura devastata, sommersi locali al primo piano, gli abitanti prigionieri in casa. Le strade sono off limits e c'è un vero e proprio blackout. Oggi le scuole saranno chiuse. Comunque l'ondata di maltempo, nei giornali questo non appare perché le notizie sono maturate poi quando ormai i giornali erano in stampa, l'ondata di maltempo che ha colpito le Marche ha provocato al momento almeno sei vittime. Questo è quanto riportano i social. Lo ha reso noto il Dipartimento della Protezione Civile dopo una verifica con le autorità locali. Quattro delle sei vittime sono di Ostra, in provincia di Ancona, una di tre castelli, sempre nella provincia di Ancona e una a Barbara. In quest'ultimo comune risultano anche tre dispersi. Nella provincia di Ancona, dove sei persone sono morte a causa del maltempo, come abbiamo detto, si sono abbattuti 400 mm di pioggia in due o tre ore. Veramente una quantità eccezionale. E secondo i primi riscontri, anche a Cantiano, sono caduti 300 mm di pioggia. Un quantitativo veramente straordinario, precipitato in poche ore in tutta la zona a ridosso del Monte Catria che ha determinato una vera e propria alluvione. Dunque le Marche sono state al centro delle perturbazioni più violente del temporale di fine estate. Ed ora diamo un'occhiata alla pagina fanese del Corriere Adriatico, dove le notizie sono meno preoccupanti, anzi in questo caso sono positive. Terna ha mantenuto la promessa, arrivato il secondo trasformatore. Bene, Terna ha incontrato l'altro giorno, nel pomeriggio di mercoledì, l'amministrazione comunale e i rappresentanti dei residenti di Carrara, ai quali ha illustrato le fasi di aggiornamento delle opere di mitigazione acustica riguardanti la stazione elettrica di Carrara. Sappiamo come alcuni macchinari nei giorni scorsi, anzi da diverso tempo, emettevano un rumore molto molto fastidioso che non faceva dormire di notte i residenti e procurava diverse noie durante la giornata. Ebbene Terna, dopo diverse sollecitazioni, ha deciso di cambiare questi macchinari e proprio ieri è arrivato il secondo trasformatore. E poi dal lunedì prossimo, 19 settembre, entrerà in funzione un nuovo macchinario installato all'interno della stazione elettrica alla fine di agosto. Quindi c'è stato questo rinnovamento. E prossimamente, nel prossimo incontro, Terna combinerà, concorderà con i residenti le opere compensative che verranno realizzate nella frazione fanese appunto a compenso della situazione di problema che costituisce l'esistenza della centrale in quel agglomerato urbano. Una notizia di cronaca, fondopagina del Corriere Adriatico. Violenza sessuale sulla figlia minorenne. Ci sono veramente queste violenze sessuali che vengono condotte in famiglia. Ieri abbiamo parlato di quanto ha compiuto un nonno nei confronti della nipotina. Questa volta un padre nei confronti della figlia. Sono veramente episodi squallidi. È stato aperto il processo a carico di un fanese di 46 anni. Tra gli episodi contestati, l'uomo sembra che palpeggiasse nelle parti intime la figlia, la quale ovviamente ha reagito, ha raccontato tutto alla mamma e il padre è stato denunciato. Giriamo la pagina e vediamo la seconda pagina riguardante Fano. Caso Carducci, per la provincia la protesta sarebbe ingiusta. Noi ci siamo sempre impegnati, ha dichiarato il presidente della provincia Giuseppe Paolini, che ha ottenuto altri 267 mila euro per la progettazione definitiva. E questo dovrebbe accelerare tutto l'iter burocratico, insomma, che al momento è stato condotto in maniera molto molto lenta. Sono tre anni che si aspetta la risoluzione del problema delle Carducci. In questo modo ci siamo portati ulteriormente avanti, ha dichiarato Giuseppe Paolini, affidando l'incarico di progettazione allo studio Vitre di Tiene, in provincia di Vicenza, risultato vincitore del concorso di idee che è stato precedentemente indetto dalla provincia. Mi sembra quindi che ci sia tutto, fuorché immobilismo, ha replicato Giuseppe Paolini. Ovviamente queste affermazioni dovrebbero essere poi documentate dai fatti. Il presidente si è impegnato anche ad intervenire subito nelle finestre dell'Istituto Battisti, che erano state date per fatte, in realtà devono essere ancora fatte, nonostante che l'impegno sia stato assunto. A Fossombrone arriva il Giro d'Italia. Una bella notizia questa per la città metaurense. Il Giro d'Italia, Fossombrone, arrivo della tappa il 13 maggio dell'anno prossimo. È stato comunicato da Vegni al sindaco Berloni. Per noi sarà un'occasione straordinaria, un'occasione di promozione della città, ma anche di attrazione per quanto riguarda il turismo. È un'occasione unica. Fossombrone non ha mai ricevuto una tappa del Giro d'Italia, questa volta è un'occasione veramente importante per la promozione della città. Ed è un'occasione importante per la promozione della città anche la preselezioni delle concorrenti di Miss Italia a Fano. Sfilano 200 bellezze. Lo vediamo qui in questo articolo di fondo pagina. Quasi 200 ragazze molto belle, le più graziosi e affascinanti di Miss Italia, sfileranno stasera alle ore 20.30 in Centro Storico a Fano. Partenza e ritorno all'area del Pincio, dove le attende lo spettacolo condotto da Marco Zingaretti. E poi si dice anche del programma di domani. Domani alle 19.30 tutte le ragazze potranno partecipare ad una pericena. Nei locali ci sarà anche il pubblico ovviamente che potrà accompagnarle. Mentre dopo cena alle 21 al Pincio ci sarà uno spettacolo dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Domenica alla stessa ora, sempre al Pincio, la proclamazione delle Miss che accederanno alla fase finale nazionale del concorso. Quindi veramente una vigilia per la parte più importante che si svolgerà a Fano, la parte poi importante poi in un'altra località. Bene, ora diamo un'occhiata alla pagina di Fano, scusate, di Pesaro del Corriere Adriatico, dove si parla di un problema che riguarda la scuola. La scuola è iniziata appena il 14 settembre, due giorni fa. Che cosa accade? E accade che insomma non tutto funziona poi come dovrebbe funzionare. Si è parlato del trasporto scolastico, ma in questo caso in ambito provinciale ci sono problemi per l'Adriabus. L'Adriabus potenzia i mezzi per le scuole e i trasporti, ma lo sciopero è una grana e c'è veramente uno sciopero. La scuola è iniziata appena mercoledì e già oggi studenti e famiglie saranno le prese con la prima grana dei servizi a causa dello sciopero proclamato, ma questo è a livello nazionale, comunque dalla categoria sindacale. Sono inevitabili le ripercussioni a livello locale dello sciopero, con una giornata di incognite e anche forse di disagi. L'azienda Adriabus assicura che i servizi per i disabili e quelli del trasporto scolastico per le scuole materne e elementari saranno assicurati, soprattutto per quanto riguarda la fascia del ritorno a casa. Sono inclusa in questa dichiarazione anche le scuole medie e le scuole superiori. Il servizio normalmente predisposto potrebbe subire comunque delle variazioni non prevedibili legate alle scelte individuali poi degli autisti, se ciascuno aderirà o meno allo sciopero proclamato dai sindacati. Il personale ATA, il carebus e i nodi non si sciolgono. I dirigenti si ritrovano a gestire la carenza con enormi difficoltà. Anche in questo caso è un problema che incombe sulla scuola. I dirigenti scolastici dei plessi superiori o degli istituti complessivi si ritrovano a gestire la carenza del personale ATA. Mentre alcune scuole ancora devono mettere in ordine l'organico degli insegnanti c'è anche questo problema del personale complementare che fa parte sempre ed è una forza importante nell'ambito scolastico. A Pesaro restiamo con Ricci. A Roma vedremo, lo hanno dichiarato il gruppo dei 5 Stelle. I 5 Stelle presentano i candidati e rassicurano sulla maggioranza a sostegno del comune di Pesaro. A Roma un'altra parrocchia, un'altra questione. Ebbene, sulla territorialità c'è un'altra gestione rispetto al nazionale. Sono scelte che vengono trattate e hanno dichiarato in maniera individuale conoscendo il territorio e le esigenze che bisogna affrontare. Insomma, ci sono due parrocchie, una nazionale che ha i suoi problemi e una locale che invece ne ha altri. In questo caso il sostegno alla giunta Ricci viene assicurato. Elezioni, macchina da 300 mila euro. E guai a smarrire le matite copiative. Ancora si traccia la croce con le matite copiative, mentre all'estero magari i meccanismi delle elezioni sono molto, molto più perfezionati. Ebbene, a livello locale, a livello pesarese, ci sono 300 mila euro che dovranno essere spesi per tutto il materiale, per tutta l'organizzazione, l'Ambaradan, per allestire i seggi elettorali. L'importo è stato messo a bilancio nell'ultimo consiglio. In città quasi 76 mila saranno gli elettori chiamati alle urne, 614 per la prima volta. Le urne pesaresi attendono 75 mila 860 elettori, 39 mila 605 femmine, che sono sempre in maggioranza, e 36 mila 255 maschi. Si annunciano 614 diciottenni che voteranno per la prima volta e da questa tornata chi raggiungerà la maggiore età potrà esprimersi, come è noto anche per il Senato. E vediamo anche la pagina di Urbino, dove si parla di una iniziativa, eccola qua. Torna il food truck a Borgo Mercatale, Gastronomia in tour da tutto il mondo. Ebbene, da ieri a domenica continua il viaggio gastronomico tra i sapori autentici della cucina italiana nell'ambito di questa manifestazione che viene organizzata a Borgo Mercatale. Non mancheranno fino a tardanotte, in questo caso, le cornie, musica, intrattenimento dal pranzo alla merenda, dall'aperitivo alla cena. E si sa come poi l'enogastronomia ha una forza d'attrazione di carattere turistico che è sempre più forte, che è sempre più efficace. E quindi anche Urbino la sfrutta in pieno. Urbino poi ha delle specialità come la cacciotta, che sono veramente tipiche. A questo punto diamo un'occhiata al resto del Carlino. Il resto del Carlino apre con un dramma che si è edificato, che ha visto interprete un fanese. Un fanese muore di legionella mentre era in vacanza. Si tratta di un ingegnere di 76 anni. Si chiamava Ciro Cozzolino. Era un ex dipendente della SNAM Progetti. Era in vacanza con la moglie in Sicilia, a Palermo. Stava soggiornando in un albergo, l'hotel Politeama, l'albergo in una posizione centralissima della città. A un certo punto si è sentito male. Si pensava che fosse un malessere passeggero. In realtà così non è stato. Nel corso delle giornate si è aggravato sempre di più. I figli a Fano hanno deciso di fare rientrare il padre, il quale una volta giunto all'aeroporto è stato visitato dal medico e subito ricoverato in ospedale con una polmonite procurata, essendo stato riscontrato positivo dal Covid. In realtà dagli accertamenti è risultato che la polmonite non era attribuibile al virus, ma alla legionella. Questo virus, anche questo, si nasconde negli impianti di areazione, di condizionamento dell'aria. In questo caso non c'è stato nulla da fare per l'ingegnere. Anche la moglie era nelle sue condizioni, però il problema per lei non si è presentato e si è ristabilita prontamente. Anche il resto del Carlino parla di Miss Italia. La bellezza sta per abbattersi su Fano. In arrivo oggi almeno 195 ragazze italiane, già vincitrici di selezioni regionali. Per tre giorni sfileranno e ne saranno scelte 21 che andranno alla finalissima. Appuntamento domani in molti locali del centro storico. I giornali ne evidenziano l'elenco per valutare le varie semifinaliste. Quindi ci sarà la possibilità di questa full immersion delle bellezze a carattere nazionale nella nostra città. Tutte le si potranno ammirare negli alberghi, mentre ci saranno delle apericene. E per gli amanti della musica c'è il concorso di Clarinetto, il concorso internazionale organizzato dalla Fondazione Carifano per quanto riguarda gli strumenti a fiato. È un concorso organizzato da Sauro Nicoletti. Oggi e domani si svolgono le selezioni di questo concorso a partire dalle 15.30 nella Pinacoteca di San Domenico. Ci sono diversi musicisti che aspirano alla vittoria in questo concorso, alcuni provenienti anche dall'estero. Spagna, Portogallo, Svizzera e Germania. È quindi una bella iniziativa questa che funge anche da promozione per la nostra città. Quando l'olio di cartoceto illuminava Venezia, dato che si parla di promozione, parliamo anche qui di enogastronomia che è tipica e viene sempre più apprezzata a livello nazionale. Il prezioso prodotto degli oliveti cartocetani veniva venduto anche alla Repubblica della Serenissima. Uno spettacolo teatrale ripercorre la storia che viene appunto rievocata in quel di cartoceto. Per quanto riguarda Urbino, invece, vediamo che c'è un nuovo studio che viene praticato dalla Università per quanto riguarda il numero e l'influenza delle fake news a livello nazionale. Il problema delle fake news è un fenomeno che deve essere attentamente studiato. Qual è la forza di influenza di queste notizie false che vengono diramate sui social in modo particolare che poi effetti provocano qual è il modo con cui vengono recepite, se vengono credute o meno dal pubblico. Ebbene, è uno studio che viene condotto dalla Università che partecipa a un progetto di carattere internazionale. C'è anche un finanziamento di 400 mila euro per il team di ricerca. Vediamo le pagine pesaresi. Le pagine pesaresi parlano del carovita e qui abbiamo un modo per cercare di risparmiare. Invece del gas proviamo a riattivare i camminetti di casa e chi non ce l'ha potrebbe anche farselo costruire. Perché c'è un televisore, tra virgolette, che posto nel cammino provoca energia pulita e fa risparmiare il 65% della spesa. Almeno così sostiene Paolo Angeletti, che è un rivenditore di legna, quindi magari è interessato, però dice che a questo proposito c'è un aumento della richiesta del 50%. Insomma, si cerca in qualche modo di attenuare il costo della bolletta delle fonti energetiche. Anche se la legna non è che è rimasta al palo, ha subito anch'essa degli aumenti, il costo è aumentato fino a 20 euro, mentre prima era di 12 o 13 euro al quintale. Quindi anche la legna ha subito un aumento, ma sembra che rimanga sempre più conveniente rispetto al gas, che ormai ha raggiunto veramente cifre stratosferiche. E sotto i San Pietrini l'ombra del Medioevo. I giornali da tempo parlano dei lavori del rifacimento del piano stradale della piazza del popolo a Pesaro. Ebbene, i lavori sono cominciati e non sono mancate le sorprese. A uno strato molto molto poco profondo, anzi, diciamo, molto superficiale di circa 20 centimetri è emerso un muro antico in pietra tratto a semicerchio. Sembra che non sia romano, perché poi la profondità è minima, quindi lo strato romano dovrebbe essere più profondo, potrebbe risalire al Medioevo, sembra che venga negata anche l'appartenenza al vecchio palazzo comunale di Pesaro, ma comunque potrebbe essere pertinenti a case medievali. È stata avvertita la sopraintendenza, per il momento i lavori sono stati sospesi e si cerca ora di, si dibatte il problema se è il caso di approfondire gli scavi oppure di lasciare tutto così come ricoprire il tutto per non dilungare molto i lavori. Anche il resto del carlino parla dell'abbonamento al bus, al problema del trasporto scolastico, ma sotto un'altra luce. Perché che cosa accade? Accade che una famiglia che sottoscrive un abbonamento per così facilitare il trasporto del proprio figlio a scuola è costretta a servirsi sempre dello stesso autobus. Se lo perde e ne prende un altro deve pagare un altro biglietto. E questo insomma crea dei problemi, crea anche delle proteste. Si tratta qui di una signora si chiama Tabita, mamma di una liceale che ha protestato, ma come dice? Io pago un abbonamento di 30 euro. Se mia figlia a un certo punto un giorno perde l'autobus, prende il successivo, deve ripagare il biglietto, mi sembra una cosa molto strana. A questo proposito risponde Massimo Benedetti che è il direttore di Adribus il quale dice che esistono due opzioni di abbonamento. O per la singola linea al costo di 30 euro mensile oppure per girare l'intera rete urbana al costo di 43 euro mensili. Cambiare la regola, ha detto Benedetti, non è possibile e quindi bisogna soggettarsi a questi regolamenti. Crosetto e il caro Energia, svegliamoci. Il cofondatore di Fratelli d'Italia, l'Excelsior, davanti al mondo imprenditoriale, dice il problema era da risolvere anni fa. Io, Ministro, non mi interessa. Ebbene, il problema del caro Energia sta veramente improntando di sé tutta la battaglia elettorale. E vediamo che anche il Carlino si occupa del Movimento 5 Stelle. Rispetto Quote Rosa e niente paracadutati è stato dichiarato nel momento in cui sono stati presentati i candidati del Movimento fondato da Beppe Grillo. Veniamo alla cronaca. Coppia tenta un furto al ristorante. Lei, che fungeva da palo, è stata presa. Il moroso, che era penetrato nel locale, invece riesce a fuggire, ma questa volta a mani vuote. Avevano arraffato anche la boccia delle offerte, pensate, ma non hanno fatto in tempo a razziare gli spicci. La loro specialità, perché non era la prima volta che erano protagonisti di questi fatti, era di assaltare i bar di notte quando sono chiusi e cercare di aprire il registratore di cassa e portare via tutto quello che potevano arraffare, comprese appunto le offerte, le mance. Ma ieri notte i progetti di una coppietta che era entrata nel ristorante Anami di Piazzale il primo maggio sono andati delusi. Infatti è scattata l'allarme, è arrivata tempestivamente la polizia e ha subito fermato il palo, si tratta della ragazza che ha 21 anni ed è tossicodipendente mentre il moroso, il fidanzato che era all'interno e che stava appunto depredando il locale è riuscito a fuggire. Il soccorso è una gara croce rossa in campo, è una bella esercitazione, un'efficacia, interessante, spettacolare esercitazione che gli operatori della Croce Rossa stanno per organizzare a Pesaro. Si tratta della 27esima edizione delle gare nazionali di primo soccorso della Croce Rossa italiana in programma per oggi e domani. Ebbene, si comincerà alle 18.30 con i partecipanti che sfileranno nel centro storico della città da Piazza del Popolo a Piazzale della Libertà dove poi alla presenza di autorità civili e militari verrà dato il via ufficiale alle gare nazionali mentre le prove avranno luogo sabato cioè domani alle ore 17. L'evento vedrà l'affluenza di tanti volontari provenienti da tutta Italia suddivisi in 15 squadre e vedremo quella che sarà più pronta, più efficace e più veloce nel prestare il soccorso ed è veramente una gara di solidarietà di volontariato che questi operatori stanno affrontando e partecipando. Vediamo anche quello che sta accadendo nella sport ecco il titolo che riguarda la VIS VIS miglior difesa dal ritorno in C ebbene i risultati positivi stanno destando grande soddisfazione tra i tifosi bianco-rossi mentre i tifosi del Fano sono mobilitati a Tolentino andremo in massa e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle 7 e vi ricordo sempre occhio alla notizia di questa sera alle ore 20.30 per le notizie del giorno questo per il momento è tutto a risentirci buona giornata